Spari sotto il cavalcavia individuato irresponsabile Segnalazioni a Rossini TV, buche pericolose a due passi dalla piazza Gli Andelbruscolo si potenzia il sistema di videosorveglianza Dopo quasi due anni la biblioteca oliveriana riapre alle visite guidate Buonasera e benvenuti al telegiornale di oggi, giovedì 18 novembre in apertura Parliamo di diverse notizie che riguardano la cronaca A partire da quella più importante perché la polizia ha individuato l'uomo Che lunedì mattina ha sparato con una pistola sotto il cavalcavia di Pesaro A pochi passi dalla parrocchia dei Cappuccini Vediamo tutto in questo primo servizio Tre colpi di pistola sparati in aria in piena mattina E quanto accaduto lunedì attorno alle 11 sotto il cavalcaferrovia di Pesaro A due passi dalla parrocchia dei Cappuccini, dalla stazione e di fatto dal centro storico Un episodio inquietante sul quale sono intervenuti subito i poliziotti della squadra mobile Che oggi hanno individuato il responsabile Si tratta di uno straniero già noto alle forze dell'ordine Per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti E che fino a poco tempo fa era agli arresti domiciliari I poliziotti lunedì scorso si sono precipitati sul luogo degli spari In seguito alla testimonianza di un uomo che camminava nei pressi dell'episodio E che se n'è andato terrorizzato Agli agenti ha raccontato però di aver notato un acceso diverbio tra tre persone Degenerato con uno dei litiganti che ha estratto una pistola Per poi sparare tre colpi in aria La squadra mobile intervenuta sul posto non ha trovato nessuno Ma ha avviato una minuziosa indagine delle immagini di video sorveglianza Che hanno consentito di risalire in fretta al responsabile Il sospettato è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione domiciliare Dove è stata trovata una pistola in metallo Che è risultata essere una scacciacani priva di tappo rosso Riproducente in maniera fedele una pistola vera Il responsabile è così stato deferito alla procura della Repubblica Proprio per il reato di aver portato fuori dalla propria abitazione Una scacciacani priva di tappo E dunque indistinguibile da un'arma a tutti gli effetti Doppio colpo in banca la scorsa notte a distanza di poche ore I ladri infatti hanno preso di mira la filiale Riviera Banca di Padiglione di Tavuglia Attorno alle due di notte e poco più tardi si sono accaniti sulla banca popolare Valconca di Mondaino A Padiglione sono riusciti a scardinare la porta dell'uscita di emergenza Caricare gli sportelli di cassa continua su un furgone e dileguarsi La videosorveglianza ha individuato quattro persone su cui stanno indagando i carabinieri Che hanno stimato un ammanco di circa 30.000 euro Un bottino che si accompagna a quello di 25.000 euro arraffato poco più tardi Nell'istituto bancario di Mondaino con simile modus operandi Negli ultimi mesi aveva sparpagliato due tonnellate di pneumatici usati Fra le isole ecologiche di Pesaro, Fano e San Costanzo La polizia di Fano e i carabinieri forestali hanno individuato e denunciato Un imprenditore asiatico responsabile di questo comportamento illegale ma anche inquinante Abbandonava pneumatici per le isole ecologiche di tutta la provincia Ad essere protagonista di questa scriteriata condotta inquinante Un imprenditore asiatico di una ditta di montaggio e smontaggio mobile a San Costanzo Che è stato individuato dalle indagini della polizia di Fano e dei carabinieri forestali di Pesaro Che hanno permesso di ricostruire un lungo elenco di illeciti avvenuti negli ultimi mesi Sono infatti stati accertati otto episodi nelle isole ecologiche di Fano e San Costanzo Per l'abbandono di una tonnellata in mezzo di pneumatici Ovvero circa 180 gomme A questi si sono aggiunti altri tre abbandoni notturni di altri 50 pneumatici E un frigorifero fra Pesaro, Monbaroccio e Villabetti L'imprenditore si occupava del recupero di varie tipologie di materiale fra il pesarese e la Romagna Che poi rivendeva in Asia Questo materiale veniva conservato all'interno di un deposito nell'entroterra Che una volta giunto a saturazione veniva liberato ricorrendo allo sversamento nelle isole ecologiche della provincia L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria Per l'attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi Il materiale abbandonato è stato trasferito presso i centri di raccolta autorizzati Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni Vi ringraziamo come sempre per mandarci al nostro numero Whatsapp Foto, video, messaggi di testo in cui ci segnalate sempre quello che non va In questo prossimo servizio, grazie appunto a una nostra telespettatrice Mettiamo in evidenza che esistono delle buche pericolose che si trovano in pieno centro a Pesaro Rossini TV accende ancora una volta le telecamere sulle segnalazioni di voi cittadini Nei giorni scorsi una nostra telespettatrice ci ha denunciato una situazione di degrado Ed in cura riguardante la pavimentazione del centro storico E in particolare alcune buche createsi in questa zona in cui ci troviamo Ci troviamo in via Amnesio Nobili alle spalle di Piazza del Popolo Della centralissima via San Francesco siamo nel retro di attività note come la pasticceria Arlecchino Come la farmacia Albini e la stessa osteria La Guercia Le immagini che vi mostriamo evidenziano quanto si è malmessa questa pavimentazione Con un porfido che si è sconnesso negli anni e buche che si sono fatte via via più traballanti Profonde e pericolose Dove i piedi di chi transita rischiano di affondare e incappare in traumi anche seri Va però fatta una precisazione importante Il terreno in cui si trovano queste buche è di proprietà privata Ed è legato alle pertinenze di un'abitazione condominiale adiacente La proprietà privata non esclude però il pericolo per la comunità Perché parliamo di un suolo di abituale transito pubblico Per i tanti che scegliono questo passaggio alternativo da e per Piazza del Popolo E dunque siamo in una situazione di confine fra il diritto di proprietà privato e quello della tutela pubblica Due buche ampie e pericolose, ancor più pericolose per chi transita in questo tratto stradale in orario notturno Proprio in questi giorni l'amministrazione comunale è alle prese con lo studio di fattibilità Per un ampio progetto di rifacimento del selciato e della pavimentazione della piazza È un progetto che si punta a realizzare entro l'estate prossima Esistono dunque situazioni più emergenziali rispetto alla piazza Che però non possono aspettare tutti questi mesi Questo è un caso particolare Si parla di proprietà privata Ma è un tratto di centro storico comunque aperto al transito pubblico E dunque non si escludono pericoli come cadute o traumi per chi transita vicino a queste buche Restano alti i contagi da Covid-19 nella nostra regione Marche Oggi altri 290 di cui ben 85 nella provincia di Pesaro Urbino L'incidenza da contagio continua dunque a salire Arrivando al dato di 112 casi settimanali ogni 100.000 abitanti Calano invece i ricoveri di 5 unità rispetto a ieri Oggi nelle Marche se ne contano 86 di cui 22 in terapia intensiva Si allunga purtroppo la lista di decessi ed altri due morti Un uomo di 70 anni di Senigallia e una donna di 88 anni di Servigliano Mattinata di manifestazioni contro il Green Pass questa mattina marotta Lungo la via litoranea all'altezza di Piano Marina Dove si sono radunati decine di manifestanti in un flash mob Organizzato dal comitato Noi siamo il popolo italiano Nell'occasione i manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come Possiamo ancora fermarli, certificato verde, uguale libertà, appunti Il Covid si cura con le terapie domiciliari precoci 48 nuove telecamere di videosorveglianza verranno allestite Nei comuni dell'Unione Pian del Bruscolo In un'importante operazione di intensificazione di sicurezza del territorio Sull'argomento abbiamo ascoltato il comandante della polizia locale Francesca Muzzini e il presidente dell'Unione Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli Parliamo del progetto che è stato presentato oggi qui all'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo In che cosa consiste quindi il progetto di videosorveglianza? Allora il progetto consiste in un importante ampliamento della rete di videosorveglianza già esistente Ampliamento sia a livello di appunto telecamere ma anche consiste in un ammodernamento E adeguamento strutturale quindi dei software ma anche delle strutture di ripetizione Per esempio dei segnali necessario perché se si amplia la rete Poi la centrale di Pesaro che raccoglierà i segnali di tutte le telecamere deve essere adeguata ovviamente Sul territorio dell'Unione nei comuni di Vallefoglia e Tavuglia e anche Pesaro perché siamo in località Monteciccardo Verranno in totale installate 48 nuove telecamere Di queste 16 sono le cosiddette targa system Cioè telecamere con la lettura delle targhe e identificazione dei veicoli Per vari motivi sia per motivi di sicurezza pubblica ma anche per motivi di codice della strada Perché sono telecamere che automaticamente rilevano i veicoli senza assicurazione e mancanti della revisione periodica Altre 32 invece saranno telecamere di contesto e quindi collocate in vari ambienti nei centri abitati Per avere un monitoraggio diciamo delle situazioni più frequentate, dei luoghi più frequentati dai cittadini Sapete già quali sono le tempistiche per la realizzazione di questo progetto? Abbiamo fatto un lavoro di sintesi e adesso stiamo predisponendo il bando Io mi auguro che fra gara, affidamento e inizio dei lavori entro la metà dell'anno prossimo Speriamo di essere a buon punto ecco L'obiettivo è quello di aver messo a disposizione oltre 300 mila euro Per un potenziamento del sistema delle telecamere è un buon funzionamento Perché avere 150 telecamere in una unione dei comuni di circa 150 mila abitanti E averle nei punti strategici importanti e poter avere un unico sistema Il sistema che collega anche Prefettura e Questura e gli altri organi di Polizia dello Stato Significa investire sulla sicurezza per i cittadini, per i territori C'è monitoraggio anche dell'inquinamento atmosferico in questo sistema nuovo di telecamere C'è anche un aggiornamento insomma perché molte telecamere risalgono diversi anni fa Quindi è un fatto importante, abbiamo dovuto scegliere perché insomma non è che in un periodo come questo Si fa fatica a far quadrare i conti nei bilanci invece noi abbiamo avuto un avanzo di circa 600 mila euro 300 dei quali li utilizziamo per dare più sicurezza ai cittadini Sono stati inaugurati oggi all'istituto alberghiero Celli di Piobbico Tre nuovi laboratori di cucina e pasticceria allestiti negli spazi recentemente ampliati Attraverso la disponibilità di palazzine della provincia e del comune di Piobbico Grazie ai lavori finanziati per 460 mila euro dalla provincia È stato possibile raggruppare l'attività dei laboratori in un unico comparto Destinando 200 metri quadrati alle cucine e 300 metri quadrati a reception, dispense alimentari, celle frigo e uffici amministrativi Ennesimo prestigioso riconoscimento per il ristorante Lo Scudiero di Pesaro E per Daniele Patti che è tra i cinque giovani chef che entrano a far parte di J.R italiana Per Patti l'ingresso nell'associazione Jeunes Restaurateurs rappresenta un importante traguardo all'interno di un gruppo Che valorizza a livello nazionale una filosofia di ristorazione all'insegna di materie prime locali Sostenibilità e forte senso di tradizione Sabato 20 novembre alle ore 18.30 all'hotel Alexander Museum Palace di Pesaro Consegnerà la 14esima edizione del premio Raffaello Un premio che dal 2008 viene conferito ogni anno a personaggi dell'arte e della cultura Dopo la premiazione di Carlo Pagnini nel 2020 Sabato il riconoscimento verrà consegnato a Leandro Castellani ed Egidio Spugnini Prosegue la 62esima stagione concertistica dell'ente Concerti al Teatro Sperimentale Il terzo appuntamento di domenica 21 novembre alle ore 18 vedrà protagonista Enrico Dindo Uno dei violoncellisti attualmente più apprezzati nel panorama musicale nazionale ed internazionale E domenica vi ricordiamo che sarà la stradomenica nel centro storico di Pesaro Ci sarà anche un appuntamento al quale la biblioteca oliveriana non partecipava Pensate da febbraio 2020 Il prossimo 21 novembre i locali di Palazzo Almerici invece torneranno ad aprire alcune delle sale Normalmente chiuse al pubblico Dopo il ritorno alla capienza più adeguata ai luoghi di cultura Per respirare diciamo appieno questi luoghi come sono la biblioteca Un altro passo avanti domenica è stradomenica ed è stradomenica anche con la biblioteca oliveriana E non succedeva da tanto Sì in effetti dopo la chiusura dovuta alle cause della pandemia Che tutti quanto conosciamo finalmente domenica prossima per la stradomenica La biblioteca oliveriana sarà di nuovo aperta e sarà aperta appunto con queste Un'occasione straordinaria per poter visitare le stanze che solitamente non sono accessibili al pubblico Abbiamo previsto tre appuntamenti, tre incontri, tre visite guidate che saranno alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30 E queste visite guidate oltre a ripercorrere anche velocemente quella che è la storia della biblioteca e dei musei oliveriani Faremo vedere alcune delle nostre collezioni A cominciare dalle lapidi dedicate ai caduti nella prima guerra mondiale Che sono state inaugurate, la mossa è stata inaugurata il 4 di novembre ed è ancora chiaramente visibile in oliveriana Insieme alle lapidi ci saranno anche degli altri reperti dedicati sempre alla prima guerra mondiale In particolare un fondo fotografico che rappresenta i campi di battaglia appunto ripresi durante la prima guerra mondiale E poi avremo la possibilità di visitare i nostri depositi E anche alcuni reperti, altri documenti relativi alla storia di Pesaro Alla storia anche del collezionismo da cui si originano poi la biblioteca e i musei oliveriani Per accedere alle visite guidate non è necessaria la prenotazione Ma ovviamente secondo le disposizioni legislative è necessario per essere in possesso del Green Pass E poi Luca Cangini che è un nostro collaboratore accompagnerà i visitatori nel percorso E che inizierà comunque dalle sale, anche dalla sala manoscritti dove ci troviamo adesso Per poi appunto salire al piano superiore e visitare i depositi E allora non perdetevi la stradomenica Saranno tanti gli appuntamenti nel centro storico di Pesaro A partire da questo importante della biblioteca oliveriana Invece questi sono gli appuntamenti della serata su Rossini TV A partire dalle 20.15 in cui vi faremo vedere il video orientamento dell'Istituto Bramante Genga In cui raccontiamo le peculiarità di questo istituto E' un video rivolto ai genitori ma anche ai ragazzi che devono a breve iscriversi agli istituti superiori E poi andiamo con Insieme a Canestro Il consueto appuntamento del giovedì alle 21.20 su Rossini TV Saremo in diretta questa sera Gli ospiti sono Davide Moretti che è il playmaker della Carpegna Prosciutto Basket Michele Zavagnini che è commentatore e opinionista Vi ricordiamo che potete partecipare in diretta Mandandoci messaggi sul numero di Whatsapp oppure sulla nostra diretta Facebook E vi ricordiamo che sabato così come il primo e terzo sabato di tutti i mesi che verranno anche C'è l'approfondimento del comune di Pesaro Si chiama We Pesaro TV Sabato alle 13.30 Questo approfondimento dove sarà con noi Enzo Belloni Si toccheranno tante tematiche riguardanti appunto la città di Pesaro E allora buon proseguimento di serata in compagnia di Rossini TV Domani l'informazione torna puntuale alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Domani l'informazione torna puntuale alle 8.20 con la nostra rassegna stampa